Diamo di nuovo il benvenuto come sta accadendo in questi giorni in cui le sale per le scelte del nostro guest director Carlo Verdone. Mi pare che siano molto molto apprezzate. Carlo, tu hai scelto cinque grandi emozioni della tua vita di spettatore e come hai detto poi in una delle presentazioni hai ragionato giustamente da spettatore e non da critico, da storico. Assolutamente, l'ho anche presentato molto da spettatore e non mi sono soffermato in voli pindarici da critico perché non è il mio mestiere e lo lascio fare ad altri. Emozioni avute da spettatore quando ho conosciuto la maggior parte di questi film al cine club, quando c'erano i cine club e là mi sono fatto la mia cultura. Devo ringraziare mio padre che mi regalò una tessera per il film studio a vari da un anno e da lì, che era a me pare il 70, il 69, il 70, ho cominciato a frequentare per circa 10 anni, 11 anni fino al 77, ho frequentato sia film studio, poi è stato chiuso, poverino, il cine club Tevere, l'azzurro Cipioni, l'occhio e l'orecchio alla bocca, poi questi cine club erano seguiti da dei grandi educatori di cultura cinematografica, erano molto bravi quelli che programmavano le rassegne. Quindi praticamente non ho visto soltanto cinema italiano, la monografia su Fellini, su Sordi, su Totò, su Blasetti, su Tognano, no, abbiamo visto cinema internazionale, al film studio vedi tutto l'underground americano, tutto il cinema sperimentale, anche italiano, Griffey, Patella, Schifano, e poi siamo andati su Kenneth Anger, Yoko Ono, Andy Warhol, insomma, e poi piano piano hanno cominciato a fare delle grandi rassegne su registi tipo Dreyer, Pabst, Lubisch, Fritz Lang, Orson Welles, Hitchcock, insomma, in undici anni alla fine è una bella scorpacciata di film, è una buona cultura, ma la sono fatta. Quindi un po' il ricordo di alcuni film che ho conosciuto lì, al cine club, poi altri film, sempre a buon compleanno a Mr. Grepe, l'ho detto, insomma, quando io ho avuto l'opportunità di programmare il cinema Roma, Cechigori mi disse, occupati di questo cinema che ho appena preso, che si chiamava Esperia, ed era a Piazza Sonnino, io, a Via La Trastevere, insomma, gli cambiai il nome, lo chiamai Cinema Roma, non più Esperia, facemmo i lavori, e quando si trattò di esordire, beh, insomma, andai a cercare un qualcosa di importante, e mi imbattì in questo What's It, Gilbert Grape, che era intraducibile in italiano, e mi inventai questo titolo, che era Buon Compleanno a Mr. Grepe, quindi è un titolo mio, ed ebbe molto successo, soprattutto per questi due attori giovani di Caprio, soprattutto, mi colpì tantissimo, Depp, ma soprattutto alla poesia del film, ecco, io, quel film, e sono quei due attori, ma soprattutto è un Alstrom in grande forma, poetica, un film molto poetico, io credo di aver scelto dei film con molta poesia, dei film anche abbastanza difficili, come ieri, Ordet, e Ordet l'ho visto grazie a mio padre, che appunto mi bocciò proprio su Dreyer e Pabst, e allora mi dovetti fare una cultura, però quando vedi alcune opere di Dreyer, capì che stavo di fronte all'espressione più sublime del cinema, e Viale del tramonto, insomma, è un film che mi colpì tantissimo, un omaggio a Peter Seller, volevo farglielo, ma non con uno dei soliti film che conosciamo, Hollywood Party, oppure il dottor Stradamore, no, l'ho cercato, uno dei film più malinconici, insomma, quindi, da un anno e mezzo, oltre il giardino, poi Peter Seller morì, quindi, mi sembrava giusto fargli un omaggio, e poi, il mio regista del cuore, che è Pietro Germi, ritengo il più grande regista di commedia, e lo presenterò oggi, Divorzia l'italiana, un film che mi è piaciuto per tutto, per la scrittura, per la sceneggiatura, per l'idea, vabbè, l'idea di Arpino, tratto dal romanzo d'Arpino, la grande interpretazione di Mastroianni, la grande fotografia, è un film perfetto, film perfetto. Senti, una cosa, la storia della bocciatura da parte di tuo papà, di Mario, tu l'hai raccontata molto spesso, quando tu ti sei presentato, che cosa ti ha chiesto proprio del cinema di Dreyer, che domanda ti ha fatto? Io mi ero messo d'accordo, mi doveva chiedere qualcosa su quello che voleva, Fellini, ero preparato, Neorealismo, ero preparatissimo, ero preparato pure su Blasetti, quindi dico, su tutte e tre cose, dico, va anche Pasolini, vai tranquillo, lui si arrabbiò, disse, ma non mi devi suggerire quello che ti devono chiedere gli assistenti, e dico, vabbè, ma tu lo sai, insomma, dai, dì, buonanotte, mancano due esami alla laurea, dai, su, sbrigiamoci, invece gli assistenti si ammalarono quel giorno, quindi lui disse, vi chiedo scusa, molti di voi non saranno interrogati oggi, però faremo, passeremo da l'A, all'ultimo, poi faremo la B, poi faremo la V, nulla, dico, ah, quindi oggi sono interrogato, perdone, e lui mi interrogò per prima, facendomi fare una brutta figura davanti a tutti, perché mi disse, parli di Babs, e io gli disse, ma come, scandivo quella cosa, neoralismo, Fellini, Pasolini, niente, guardavo in alto, mi parli di Dreyer, cioè, è proprio tutto quello che non mi doveva chiedere, allora mi disse, si presenti alla prossima sezione, io l'ho ripetuta questa scena, in grande e grosse avverture, quando il professor Cagnato, boccia, praticamente uno studente, che ho voluto che fosse mio figlio, che mio figlio, di fare l'attore non era frega niente, però è molto bravo, e fa tutt'altro lavoro, e gli dico appunto la fatidica frase, si ripresenti alla prossima sezione, perché non sapeva niente del Cavallini, che era un pittore, insomma, che è importante, era un professore di storia dell'arte nel film, e quindi l'ho voluta ricordare in un pezzo di quel film. Infatti poi tuo figlio compare spesso nei tuoi film Paolo, quando mi manca un attore, oppure mi viene in mente qualcosa, c'era telefonata a Paolo, Paolo, viene a dare una mano, però adesso lui lavora in maniera molto dura, quindi non ha più il tempo a disposizione. Però mi ha salvato diverse cose, sì, perché o si era ammalato la comparsa, il generico parlante, dai, ecco, che doveva fare la scena, oppure no, in posto in piedi in paradiso, poi glielo chiesi io, dico, senti, dico, facciamo, che me lo fai di questo ruolo, del figlio di Marco Giallini in posto in piedi in paradiso. Lui dice, che era una paura di niente, mi ha detto, va bene, stava diventando poi amico anche di Marco, sul set, quindi l'ha fatto con piacere. E la cosa incredibile, la cosa incredibile è che nell'aula dove io ho fatto, si vede Giallini che va a trovare il figlio perché si sta lavorando e vuole essere presente alla laurea, il figlio invece si vergogna del padre, perché ha scoperto che il padre sta in un sito di incontri per vecchie signore, e fa, diciamo così, una specie di gigolò, un sito che si chiama, di incontri, si chiama Italian Stallone. Quindi si vergogna, si vergogna e non ha piacere che il padre venga lì. Beh, mio figlio poi la seconda laurea che ha preso, l'ha preso proprio la Lewis, in quella stessa aula, ma mi ha fatto l'impressione, ho detto, ma guardate, con quel film anticipato, perché non sapeva nemmeno che lui avrebbe, si sarebbe dovuto laureare in scienze politiche, con una tesi in statistica, in inglese, una cosa complicatissima. Però si è ritrovato là e questa cosa ci ha fatto emozionare a tutte e due. Senti, una cosa, poi immagino che sono dei colleghi che vogliono chiederti qualcosa. Torniamo un attimo all'epoca dei cineclub. Dicevi prima che hai visto non soltanto i grandi classici del cinema, ma anche molti di quelli che sono diventati classici del cinema underground, alternativo, o come vogliamo chiamarlo. E quello ti ha molto influenzato, tanto che all'inizio tu hai girato delle cose. Come no? Io ho girato dei... Beh, influenzato dalle sperimentazioni, cominciai a sperimentare anch'io, comprando da Isabella Rossellini all'epoca, parliamo del 1970, una cinepresa, una Super 8, una Bolex, una Bolex che aveva il macro zoom, quindi potevo fare anche degli effetti particolari, avvicinarmi molto agli oggetti, una macchina che costava parecchio, però lei doveva pagare un conto telefonico enorme, c'era un fidanzato che abitava fuori Roma, il padre non gli aveva da questi soldi perché diceva che spendeva troppo al telefono, la voleva punire. Allora lei si vendette questa cinepresa e io feci una questua con i miei zii, mio padre, mia madre, alla fine mi aiutarono tutti e cominciai a girare. Feci tre mediometraggi di 25-28 minuti, 30 minuti, uno di 25, uno di 28, uno di 30 minuti e uno si chiama Poesia Solare, un altro si chiama Allegoria di Primavera e un altro si chiama Legge Notturna. Ero influenzato dalla sperimentazione, non erano parlati, erano immagini con musica spesso o sinfonica o elettronica, però devo dire che li feci vedere a delle persone importanti, una volta venne anche Anthony Quinn a casa dei miei e feci vedere questa cosa e lui rimase molto colpito perché Anthony Quinn era molto amico di mio zio, mio zio era l'architetto di Anthony Quinn e ha fatto la casa a Los Angeles, a Belletri, insomma. E mi disse ah, dice tu hai una grande sensibilità, dovresti... allora disse Mario devi fare qualcosa per tuo figlio e mio padre poi fece in modo che questi film li vedesse Roberto Rossellini che vedendoli mi prese poi mi disse di fare la domanda d'ammissione al centro sperimentale di regia, in quell'epoca c'era soltanto la regia, non c'erano attori, erano anni molto difficili, senza soldi, con le contestazioni, insomma. Però alla fine entrai e il mio diploma di regia. I tre film sono andati perduti? Sono andati persi, l'ha persi proprio da Rai, o qualcuno sarebbe fregato, io comunque sono proprio convinto che quando morirò qualcuno dirà l'ho trovato e sono miei. Finirà così, è ovvio che finirà così. E quindi scopriremo anche un Carlo Verdone. Beh, ma scoprirete un Carlo Verdone poetico che non c'entra niente con quello che poi ha fatto nella sua vita, nella sua carriera, perché erano molto molto crepuscolari, molto molto psichedelici, anche un po' romantici, molto notturni, molto una cupezza, però una dolce cupezza c'era. Va bene, perché però ritroviamo nei tuoi commedie. Ragazzi, con uno ho vinto un premio importante a Tokyo, al Cilect di Tokyo, sono arrivato primo, cioè io non ero manco presente a Tokyo, c'erano in concorso pure di 35 mm, quindi sono vinto con un Super 8 che ci arriva alla telefonata, al telegramma, di congratulazioni, lo fece vedere a Rossellini e indubbiamente questo aiutò molto il mio ingresso al centro sperimentale. Quale era il risultato? Elegia notturna, Elegia notturna, l'ultimo. Allora, ci sono domande da parte vostra? Certo, prego. Allora, io vorrei dire una cosa, vorrei dire una cosa, io questa mattina entrando qui ho avuto una grande emozione perché mi hanno fotografato di fronte a una vecchia telecamera, erano le telecamere che usava Enzo Trapani qua, perché io sono nato artisticamente qua, a Torino, in Via Verdi, dove sono rimasto, a Torino per la bellezza dei quattro mesi, settembre, ottobre, novembre e dicembre, perché Trapani all'epoca non aveva copione, lui creava alla giornata, c'era un foglio di carta con una penna e scriveva qua adesso voglio un balletto, qua adesso voglio una cosa, adesso qua mi invento una cosa, adesso poi quello mi fa... Quindi, non essendoci copione, Trapani scriveva anche nei weekend e noi gran parte dei weekend dovevamo restare qui e quindi artisticamente sono nato qui. quando si resero conto che io ero forte ma io non me ne rendevo conto, io avevo molti dubbi su questa mia trasferta torinese, non sapevo se era un attore capace di di sostenere un pubblico, l'avevo presa un po' come un tentativo, non mi facevo tante illusioni. Alla quarta puntata mi disse Trapani tu lo sai che funzioni, tu funzioni tanto, lo sai? e dico ringrazio, dico no no bisogna che tutti prepari a scrivere una cosa per una puntata in più, dobbiamo fare per te perché il programma c'ha molto, non c'era all'epoca l'auditel ma c'erano dei gruppi di ascolto, piace molto, scrivi, 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 dico io non c'ho più niente, scrivi, non roppo i coglioni, scrivi, e io scrissi, scrissi, quello che poi sarebbe stata la cartomante con tutti i personaggi, lo scrissi in una notte, il giorno dopo registrammo, fu una cosa folla, io dissi, se ridono a sta cosa qua non lo so nemmeno, quando, e ci fu una cosa molto bella, allora, io questa mattina sono entrato qua dentro Viale, Ventovia Verdi con una macchina, con un autista che mi è venuto a prendere in albergo, quando noi terminammo tutto non stop, eravamo vicino al Natale, il dottor Gambarotta, che era il direttore della sede radio di Torino, mi fece chiamare, io ho fatto già le valigie, tutto quanto, ero venuto a salutare tutti quanti, e mi disse, si sieda, lei è consapevole di quello che ha fatto? Io dissi, no, lei farà molto ridere, lei avrà un grande successo, che ci fa con questi soldini adesso che ha guadagnato, non sono tanti, ma che ci farà? Beh, mi cecompo una macchina, la 127, 127, le posso dare un consiglio? Mi dica dottore, non compri la macchina, di qui a qualche mese lei girerà in macchina con un autista, io dissi, dottor Gambarotta, lei è gentilissimo, lei sta un po' fantasticando, gli ho detto, dico, sta tirando un po' no, perdone, finirà così, finirà così, che quando lei tornerà qua in Rai, se tante volte dovesse tornare in Rai qua a Torino, lei ci arriverà con una macchina blu, con una Mercedes e l'autista, mi dia retta, io faccio gli scongiuri, magari succedesse, succederà, se lo dice lei, ma io non ero tanto convinto, lo salutai, fu molto carino, fu molto gentile, salutai il caro Trapani, che poi poveretto di lì a qualche anno poi si tirò un colpo di pistola, la qualcosa mi addolorò veramente tanto, tanto, perché mi ha scritto un bigliettino con delle cose belle, io ero una persona che non si rendeva molto conto, poi quando le puntate andarono avanti, me ne accorsi che la gente mi riconosceva per strada, mi rifaceva il pezzo che avevo fatto la sera, la pistola, il porto d'armi, i cervi a Ponte Sisto, cioè Rd1, mi ripetevano completamente, allora dico, ma qua sono entrato un po' nelle persone, e allora sentivo che la mia vita stava cominciando a cambiare, beh, stamattina che sono entrato con l'autista alle cose e mi hanno fatto una fotografia vicino a una telecamera dell'epoca, mi ha veramente toccato il cuore, mi sono un po', dentro di me mi sono molto emozionato, ho detto, ma guardate, che ambarotta c'ha ragione. aveva assolutamente ragione e ti meriti. È stata veramente una bella carezza è stata stamattina. E ti meriti tutto. Cristiana voleva? Senta, restando sempre a questi inizi, è molto bello questo racconto che sta facendo di com'è, è partita la sua carriera anche con una grande umiltà, diciamo, nonostante le sue... sono sempre stato umile è stata la mia forza perché non mi sono mai sentito arrivato ancora oggi quando inizio un film io per due notti prima io non dormo io sono una pila elettrica perché per me è un ricominciare da capo questo lavoro. Le volevo chiedere una cosa precisa diciamo tutta questa cultura cinematografica e poi quando lei ha cominciato a fare i suoi film anche da regista invece ha fatto una scelta diciamo di privilegiare la recitazione quindi di un focus sugli attori e una regia molto al servizio degli attori come ecco come ha riflettuto su questa cosa alla luce invece di tutto quello che lei sapeva insomma della storia del cinema cioè aveva degli strumenti altissimi però invece anche in questo caso forse ha fatto una scelta di semplicità estrema che poi ha pagato ma uno inizia chiaramente quando inizi fai tiri fuori subito le armi quelle quelle tue quelle più potenti erano la recitazione la caratterizzazione certi personaggi che avevo provato in teatro poi qua in televisione gli ho dato un'anima è nato un sacco bello perché quei personaggi non erano personaggi delle macchiette e basta avevano un DNA con tanto di anima dentro e lo dimostra il candido in un sacco bello la solitudine del bullo in un sacco bello il fricchettone con quel padre la sorra Lella con il nipote alla fine l'emigrante c'è sempre un po' di malinconia e di e di comicità poi andando avanti a me piace il cinema non sarebbe stato più cinema ma quello di di spararmi la macchina da presa addosso anche se ho sempre avuto degli ottimi coprotagonisti accanto a me però non era un cinema che che mi sarebbe piaciuto fare e continuare ecco quindi che inizia con io e mia sorella un periodo molto importante cioè incomincio a deromanizzare un po' la mia il mio personaggio ambientarlo fuori Roma a Spoleto poi a Brighton in Inghilterra scelgo Ornella Muti faccio una scommessa con me stesso la prendo come una ragazza dalla porta accanto non più come l'oggetto inafferrabile e favolistico dei film di Celentano e prendo una bravissima Elena Sofia Ricci e comincio a raccontare una piccola storia familiare fatta di affetto tra fratella e sorella poi arriva compagni di scuola ecco con compagni di scuola io dovevo dimostrare che ero un buon regista e secondo me non era importante come muovevo la macchina perché alla fine compagni di scuola era molto teatrale come film perché avevamo soltanto una grande villa sulla più antica come sette però è come far muovere gli attori come 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 far entrare uno far uscire l'altro come dice quella battuta quello come risponde l'altro e soprattutto era un film in cui andava fatto un grande cast all'inizio di attori non famosissimi ma bravi attori chi in teatro chi in film indipendenti però fu forse uno dei cast più azzeccati della mia carriera ho cercato di di variare sempre di variare perché se fossi rimasto ai personaggi sarei morto di lì a poco in breve tempo quindi ho cercato sempre di privilegiare anche il fattore di regia maledetto il giorno che ti ho incontrato è un ulteriore passo avanti andiamo ancora più lontano andiamo a Milano poi andiamo in Cornovaglia poi andiamo a Londra non si parla mai in romano in quel film è un film in italiano non c'è una battuta in romanesco nemmeno a morire e qui mi ricordo che qua all'ideal di Torino fece un risultato mi ricordo un weekend strepitoso e io rimasi veramente tanto colpito non ricordo la cifra ma fu una cifra che addirittura Lanza fece la notizia c'era scritto Verdone sfonda al nord all'ideal di Torino soltanto nel weekend in cassa adesso non so se era 40 milioni 41 milioni o 35 non me lo ricordo comunque eravamo su cifre pazzesche che non avevo mai fatto in vita mia poi seguì al lupo al lupo e insomma alla fine ho cercato sempre di sterzare dando qualcosa di diverso al pubblico poi ho toccato il tema dell'handicap con perdiamoci di vista sono tutti i film che mi hanno dato dei David dei nastri soprattutto mi hanno dato il pubblico l'applauso del pubblico poi siamo tornati con viaggi di nozze era una scommessa quella di tornare a fare i personaggi ma quel film è ancora tanto attuale francamente insomma ho cercato di andare avanti però sempre cercando poi nel tempo di fare quello che la mia maschera mi poteva mi poteva offrire perché io non posso più fare cose che facevo negli anni 80 è ovvio cambia la maschera cambiano i tempi cambiano le problematiche della società quindi una volta scrivevo i personaggi sui caratteri adesso scrivo i personaggi su alcuni temi questo prego a me non ha stupito affatto la scelta cinefila dei 5 film da guest director però mi chiedevo come mai non c'è un calto musicale vista la sua passione e non so se c'era qualche titolo che magari era indeciso a mettere poi magari ha escluso musicali ci potevano essere però li abbiamo visti tante volte adesso ogni tanto skyart li riprogramma ma i film musicali sono due The Last Waltz di Marty Scorsese e Woodstock quelli sono i film musicali che hanno un senso però però francamente mi sembrava anche un po' volevo andare un po' su una cultura di direzione cioè tirare fuori dei registi bravi oltre che dei film buoni il film musicale sarebbe stato un po' scontato ma poi ne abbiamo visti ultimamente hanno programmato tutti quindi c'è una domanda ah sì ce l'hai tu prego qualche minuto qualche secondo fa hai parlato di premi e hai parlato di consenso del pubblico diciamo spesso capita che le due cose difficilmente possono mettere d'accordo soprattutto chi parla di cinema per te cioè cosa è più importante tu sei uno dei penso almeno per me uno dei pochi autori che come dire fa del cinema d'autore fa del cinema d'autore spesso di commedia e mette comunque d'accordo questi due diciamo macro temi per te sì critica e pubblico ecco per te cos'è più importante diciamo cioè è più importante arrivare alle persone che è una cosa dignitosissima o è più importante magari arrivare alla critica cosa altrettanto altrettanto dignitosa no la cosa ideale sarebbe arrivare a tutte e due però sappiamo benissimo che l'unanimità non esiste non può esistere un'unanimità non ce l'hanno avuto nemmeno grandi artisti immensi artisti un'unanimità però cerchi di fare del tuo meglio per cercare di interessare tutte e due chiaramente il pubblico è molto importante perché con un successo di pubblico se il pubblico fa affluenza in sala beh io so sicuro che il prossimo film lo farò se il pubblico manca allora incomincia ad esserci qualche problemino io ringraziando Dio non ho mai fatto rimettere il produttore dei miei film mai il cinese in coma che è stato il mio film che più ha più ha lasciato perplesso il pubblico più che altro non c'è stato l'ingresso immediato forse per il titolo o forse perché sarà anche stancato perché ci sta pure che dopo tanti dopo più di dopo due decenni il pubblico ti dice basta con un titolo anche un po' difficile da intuire che tipo di film era però là poi quel film là nel tempo invece ha avuto quello che si meritava attraverso un successo di pubblico televisivo tant'è che questo film poi se lo litigano continuamente a Mediaset Rai Rai 3 Rai 1 magari in seconda serata poi arriva su Iris poi ritorna sul canale 5 quel film va quindi alla fine alla fine ci hanno guadagnato anche su quello che era stato il più fragilino però è un buon film quando Tony Servillo mi ha detto io ho un film del cuore e qual è? io mi aspettavo compagni di scuola gli disse il cinese in coma dico ma io ti voglio abbracciare no no quando mio figlio quando fa l'attore io gli faccio vedere il cinese in coma faccio vedere tre scene che per me sono fondamentali dico Tony ti ringrazio dico non sapevo che no 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 è un film è un film che merita tanto tanto mi faccio risate e mi commuove c'è tutto c'è il cinismo c'è la rabbia c'è il senso dell'amicizia c'è il tradimento è un film è un grande film detto dal migliore attore di teatro che abbiamo mi ha fatto tanto piacere questo è ovvio una volta però ti dico l'ideale sarebbe guarda se tu fai un buon film il pubblico in qualche modo ti segue ti segue più o meno ti segue se ti segue il pubblico ti seguirà anche qualcuno della critica se tu vuoi la critica e il pubblico tutti all'unanimità non li avrai mai ma non esiste ma non esiste c'è uno che ti darà due stelle estitiche e un altro che te ne darà tre però è così è così l'importante la cosa importante e questo l'ho visto anche un po' con me che molti miei film che quando uscirono passarono come dire ha fatto un buon film poi però col tempo il tempo li ha esaltati questi film tant'è che io mi sono meravigliato io ho anche delle persone intellettuali io non gli posso toccare acqua e sapone si arrabbiano io dico vabbè però è inferiore a Brotaco no non lo dire sono uguali mi dicono sono uguali e sono la fotografia degli anni Ottanta no no non l'hai capito tu che l'hai fatto non l'hai capito ma dico ma poi che non l'abbia capito l'ho fatto ma ci sono ecco per esempio sono dei film che io non glieli posso toccare però per me sono film non dico minori sono stati dei film più importanti però c'è tutta una schiera di film anni Ottanta intoccabili per alcuni spettatori anche intellettuali quindi per me è un piacere e anche una sorpresa io sto ricevendo tanta gratitudine da parte da parte di tanti spettatori che rivedono a distanza i film e li rivalutano io 15 anni fa mica c'avevo l'attenzione che ho oggi ve lo dico sinceramente il che vuol dire che c'è un pubblico trasversale l'ho preso perché ormai sono 42 anni che faccio sto lavoro non è è che si vede che rivedendoli hanno sono rimasti colpiti hanno si sono rimessi a guardare un po' la la cinematografia mia e evidentemente hanno scoperto che c'è un'anima vera sincera perché se no hanno scoperto una sincerità secondo me tanta tanta osservazione genuina tanti dettagli che gli erano sfuggiti magari alla prima la prima proiezione il fatto che ripetono spesso le battute sono entrate un po' nell'immaginario del abbiamo tempo per un'ultima domanda sì una curiosità sono qua per quanto riguarda invece il linguaggio seriale volevo sapere che cosa la fascina se l'osserva e se c'è un desiderio dopo tanti anni di cinema di grande di grande sperimentazione di grande lavoro sui personaggi e sulle storie di arrivare anche a pensare su se stesso un progetto che possa essere continuativo grazie guardi molti miei colleghi criticano le serie secondo me fanno male fanno male perché 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 è un cambio è un cambiamento nella fruizione del prodotto e dobbiamo dobbiamo seguire non dobbiamo essere nostalgici perché è la stessa cosa di quando c'era il cinema muto e poi è diventato sonoro c'è fu una rivolta degli attori del cinema muto perché non lavoravano più dicevano che si era persa la poesia non è vero non si era perso niente quando arrivò il cinema scopo con Odissea dallo spazio con Ben Hur sembrava un'immagine troppo grande era meraviglioso ma però si perdeva la poesia non si perdeva niente erano film colossali era giusto che fossero così dobbiamo seguirle dobbiamo seguire l'evoluzione però allora alcune serie sono fatte sono come una catena di montaggio perfette non sono scritte da uno sceneggiatore ma sono scritte da 15 sceneggiatori i registi di una serie saranno 7 8 quindi possiamo dire che è un cinema d'autore forse no forse no però nessuno gli porti niente sulla perfezione della sceneggiatura delle puntate che ti drogano e ti portano assolutamente a vedere la seconda puntata poi la terza puntata poi la quarta poi la quinta poi la sesta e alla fine sei un tossico dipendente che va dietro perché non puoi staccare il problema è che ne stanno arrivando troppe quindi ho tanti amici che mi dicono adesso ho sospeso quella vedete questo non so più come fa è diventato un po' un supermarket quindi è una bolla che non dico che rischiate scoppiare però certamente il pubblico ne comincia a avere un po' troppo troppi prodotti da scegliere però alcune serie sono fatte talmente bene che anzi possono essere anche d'aiuto nella scrittura in certe soluzioni per il cinema però io rimango dell'idea che se uno cerca il cinema d'autore deve cercare il film unico perché là è una catena di montaggio perfetta non gli puoi dire niente dal punto di vista fotografico dal punto di vista ai dialoghi ma là c'è un sociologo che prima di dare l'ok a una serie stabilisce i punti che tu devi toccare come li devi toccare c'è uno psicologo c'è un esperto di comunicazione di massa là c'è 100 persone prima di dire ok è una serie comunque io farò una serie televisiva tra due anni la devo fare al momento opportuno vi diremo con chi però chiaramente sarà una una casa abbastanza forse la più grossa che c'è però adesso aspetto il ritorno di De Laurentiis da Los Angeles che credo ho l'impressione ho la sensazione che qualcosa abbia abbia combinato però non lo posso dare per certo aspetto che torni lui io non lo chiamo mi deve chiamasse lui quando dove però penso che quello che hanno letto gli sia piaciuto molto perché se lo stavano litigando tre addirittura a maggior e quindi vediamo a chi andrà il nuovo film di Carlo esce a febbraio io di quello non ne posso parlare perché c'è tutto il film di Natale c'è ancora tanto tempo abbiamo deciso di uscire il 27 febbraio proprio perché abbiamo la sensazione che il film sia buono sia molto buono e allora non vogliamo avere tante tante battaglie da fare insieme con altri film quindi la data del 27 febbraio anche se un pochino un po' in là però è ancora una buona data ma soprattutto mi consente di avere un tot numero di sale perché forse questo film dovrebbe meritarlo lo dico col condizionale perché poi sarete voi a giudicare però sono particolarmente fiero molto contento di come di come è venuto questo film ecco grazie il film è terminato vado ai mixaggi vado al mix ai premix il 4 dicembre allora grazie Carlo volevi fare una domanda prego la curiosità era Ordet trai perché allora perché ho scelto Ordet no io lo io lo considero uno dei più bei film della mia io lo considero uno dei più bei film che siano mai stati fatti e ieri in sala quando l'ho presentato ho detto se il povero dryer dal cielo potesse vedere una sala così piena dico come sarebbe contento perché lui non ha avuto mai tanti spettatori era troppo intellettuale toccava dei temi troppo alti troppo profondi il senso della moralità nell'uomo la religione il dogma le varie correnti all'interno della religione protestante insomma siamo ma io allora lo sapete che io mi dovevo lavorare in storia delle religioni poi ho dovuto cambiare perché essendo entrato al centro sperimentale sia Rossiglini sia mio padre mi dissero beh però la tesi se fai il centro sperimentale cerca di metterci dentro il cinema come fai letteratura e cinema infatti sul consiglio di mio padre riflettemmo che per esempio un tema come le influenze della letteratura italiana nel cinema mutuo italiano sarebbe stato un'ottima un'ottima tesi di laurea mi dispiacque molto perché io ero molto ero un bravo studente di religioni del vicino oriente antico e stavo anche pensando non sapendo che avrebbe avuto poi successo nel cinema che la mia vita sarebbe stata quella all'interno dell'istituto storico religioso quindi come assistente io pensavo che la mia carriera sarebbe stata quella di un assistente universitario e poi di un professore sperando in futuro poi la vita ha scelto per me ha scelto in un altro modo attraverso la mia passione mi ha portato mi ha fatto vedere che c'era un talento che non sapevo di avere ecco questa è la verità però ecco perché Ordet mi piace perché vengo da quegli studi mi piace quella speculazione sulla sulla fede sui dogmi su certe posizioni della religione protestante è un film poi che lascia mille quesiti veramente e ci dice quanto Dreyer fosse religioso perché poi alla fine quello è il più bel miracolo che noi abbiamo visto dalla storia del cinema di miracoli sono avvenuti tanti anche Max Reinhard per esempio l'ha fatto Das Miracle Muto però la più bella la più bella resurrezione del cinema nel cinema l'ha fatta Carl Theodor Dreyer e l'ha fatta in una maniera così intensa senza una musica senza niente soltanto come colonna sonora questo vento che 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 sibila per tutto il racconto queste pianure danesi queste colline battute dal vento solo i campanacci delle mucche ci dicono che loro sono degli allevatori se no sarebbe stato un film teatrale eppure aveva una potenza nell'immagine di attori nessun attore fa delle espressioni col viso ma tutti si si limitano o a chinare la testa in un modo o in un'altra sono gli eratici non c'è nessuna espressività ma quella è la grandezza il grande rigore di questo regista che ti tiene incollato su quel su quel figlio che non si sa se è veramente Gesù Cristo che torna in terra o è un pazzo scatenato però è una figura talmente bella con quell'attore così bravo ma quanto era bravo quell'attore guarda veramente e il miracolo avviene perché alla fine non perché lui è Cristo ma perché glielo chiede la bambina quindi è in pieno accordo che è l'anima pura che è l'anima più pura candida no e lei dice si si io voglio che la mamma torni a vivere tu lo vuoi si e allora lui ripetele come Gesù nei suoi miracoli alcune parole però è la bambina la purezza che gli chiede questa cosa e allora Dio lo ascolta e fa sì quindi questo ci fa capire quanto fosse religioso ed era un religioso truffo che l'aveva conosciuto da di lui un'immagine veramente bellissima all'inizio ti metteva un po' di soggezione poi in realtà era un uomo piccolino minuto e poi con una grande gentilezza una grande sensibilità è un uomo molto religioso lo definisce e Godard disse che ogni film di Dreyer era una botta di follia e di potenza come le sinfonie di Ludwig van Beethoven ma non l'ha detto solo lui l'ha detto Orson Welles l'ha detto Bogdanovic l'hanno detto tutti c'è poco da fare è stato visto poco dal pubblico quindi per questo sono contento ieri di averlo mostrato a un pubblico sensibile perché abbiamo detto guardate è stato visto poco all'epoca però sono tanto contento che questa sala di Torino è piena perché è un film che francamente è considerato all'undicesimo posto hanno fatto una classifica o undicesimo dodicesimo posto dei film più belli del mondo c'è stata una congrega di critici che si sono riuniti e l'hanno hanno stabilito che mi pare al dodicesimo al dodicesimo posto c'è Ordet per me potrebbe stare anche dai primi tre però insomma quanti film sono stati fatti miliardi di film quindi sarà il dodicesimo posto è grandioso è una bella posizione grazie infinite a Carlo Verdone grazie a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti